In questo numero del Tg Ambiente. Energia. In Europa l'eolico e il solare superano il gas. Emergenza smog. L'aria delle città italiane è sempre più irrespirabile. Per la prima volta nella sua storia, nel 2022, l'Unione Europea ha prodotto più energia elettrica da solare ed eolico che da gas naturale. La crisi energetica, infatti, ha spinto i 27 paesi europei a trovare soluzioni alternative. Secondo il centro di ricerca Ember, lo scorso anno l'Europa ha prodotto il 22% di elettricità grazie a sole e vento e il 20% utilizzando il gas naturale, uno dei combustibili fossili che causano la crisi climatica. Con il carbone, la più inquinante tra le fonti fossili, è stata prodotta il 16% dell'elettricità. Per quanto riguarda la produzione di energia solare, a fare un vero balzo in avanti, sono state Grecia e Paesi Bassi. Anche l'Italia ha visto crescere la quantità di energia prodotta dal sole, ma meno di altri paesi europei. Ma non è tutto. Secondo il rapporto, la produzione di energia elettrica derivante da fonti fossili, come il gas, potrebbe crollare del 20% nel 2023, quasi il doppio rispetto al precedente record del 2020. L'area delle città italiane, soprattutto quelle del nord, è sempre più irrespirabile a causa dello smog. Lo certifica il nuovo report di Lega Ambiente, ma l'area di città, cambio di passo, cercasi, pubblicato nell'ambito della Clean Cities Campaign. Nel 2022, su 95 città monitorate, 25 hanno superato gli attuali limiti normativi per gli sforamenti di PM10. Al primo posto Torino, con 98 giorni di sforamento, seguono Milano, Asti, Modena, Padova e Venezia. E il cambio di passo non si intravede nemmeno. Secondo Lega Ambiente, la tendenza alla riduzione dell'inquinamento è troppo lenta e le città sono esposte a nuovi rischi sanitari e sanzioni. Le più distanti dall'obiettivo previsto per il PM10, per esempio, dovrebbero ridurre le concentrazioni tra il 30% e il 43% entro i prossimi sette anni. Stando agli attuali trend di riduzione, però, potrebbero impiegare mediamente altri 17 anni per raggiungere l'obiettivo, ovvero il 2040 anziché il 2030. Città come Modena, Treviso, Vercelli potrebbero addirittura metterci oltre 30 anni. 10 milioni di euro di fondi ai comuni al fine di ridurre i rifiuti in plastica. Apre il terzo sportello del cosiddetto programma Mangiaplastica, progetto sperimentale voluto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'acquisto di ecocompattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo a fondo perduto. Il Vice Ministro Vanni Agava sottolinea come grazie al lavoro fatto con la legge di bilancio la dotazione finanziaria sia stata incrementata. Le risorse ora potranno essere utilizzate dagli enti locali per promuovere e rendere più efficienti la raccolta differenziata e il recupero di questo tipo di rifiuti, che hanno un peso significativo nell'inquinamento ambientale, favorendo la transizione verso l'economia circolare. Le istanze dovranno pervenire attraverso l'apposita piattaforma informatica entro il 31 marzo 2023. Per il Vice Ministro ciascuno deve fare la propria parte, perché la sfida ambientale sia un percorso corale, condiviso e sinergico. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha dato il Via Libera a un contributo per realizzare 160 progetti faro di economia circolare. Nei tre decreti il di Castero individua la lista dei progetti che beneficeranno del contributo massimo previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in linea con la normativa sugli aiuti di Stato. Si tratta di aziende che hanno proposto interventi volti ad adeguare impianti esistenti o a realizzarli ex novo. Per la linea A, che promuove l'ammodernamento e la realizzazione di nuovi impianti per i rifiuti elettrici ed elettronici, comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici, sono stati finanziati 67 progetti. 70, invece, quelli selezionati per la linea B, riguardante l'impiantistica per la raccolta, logistica e riciclo dei rifiuti in carta e cartone. 23, infine, i progetti che troveranno compimento attraverso la linea D, per l'infrastrutturazione della raccolta di frazioni tessili e la realizzazione di veri e propri hub del tessile. In arrivo nei prossimi giorni, anche il decreto di concessione dei contributi per gli operatori economici della linea C per la realizzazione di impianti di riciclo della plastica, compreso il marine litter. Grazie.